Perché io ho deciso di passare al gruppo della Lega, è un fatto nemmeno personale ma di politica, come sapete mi hanno presentato anzi alle elezioni provinciali, dal tuo gruppo ti aspetti e soprattutto da quello che è il capo del tuo gruppo, di quello l'ispiratore verso il quale Gentilini rimane la stima, l'amicizia per carità, il riconoscimento di tutto quello che ha fatto, però non ho avuto l'appoggio, anzi, assolutamente e quindi sono rimasto molto deluso. Questo è il motivo per il quale Giannicelli ha deciso di lasciare la squadra di Gentilini per unirsi a quella della Lega, la delusione però il filo conduttore di entrambi. Giannicelli io ti auguro ogni futuro politico ma vedo che le tue mire non sono quelle certamente di Gentilini, Gentilini si è sempre accontentato di rimanere in città con il suo popolo. Ed è un botta risposta a distanza tra chi alza i muri più alti. Essere lasciato solo, ripeto, da quello che è un personaggio come Gentilini che poteva aiutare, non mi ha aiutato, mi ha profondamente deluso. Tu invece mi derai a qualcos'altro ma io non porto rancore, ti auguro grandi successi ma mi hai ferito profondamente e sono profondamente disgustato. Allo sceriffo il carroccio non perdona di aver esternato pubblicamente di essere stato boicottato dal suo stesso movimento della serie I panni sporchi si lavano in casa propria. Ecco perché oggi nella lista Gentilini è rimasto soltanto Giuseppe Basso. C'è posto per tutti e secondo me Gentilini è e deve essere padre nobile di quello che è stato un movimento che ha fatto tanto nel nostro territorio. Quindi altri atteggiamenti poi vanno contro la nostra politica.